Da oltre 35 anni Termo Bozzo è specializzata nella vendita di materiale idrotermosanitario. L'esperienza maturata direttamente sul campo permette oggi all'azienda di garantire un servizio impeccabile, con soluzioni personalizzate, una consulenza competente e sempre professionale, curando ogni fase della vendita. Si offrono inoltre sopralluoghi gratuiti per stufe e termostufe, caldaie a biomassa ed energie rinnovabili, ma anche impianti di condizionamento idraulici e termoidraulici. Scopri tutte le novità su Facebook.